Bocche cucite alla pubblica Sant'Agata di Rivergaro, il giorno dopo la notizia dell'arresto della presidente Katia Sartori, con l'accusa di falso in atto pubblico e peculato ai danni della stessa organizzazione di volontariato. E i volontari, che ogni giorno prestano il loro tempo e il loro servizio alla comunità, restano in silenzio e sotto shock, ma continuano a tenere viva l'attività. Questa vicenda, dicono alcuni, ci addolora tutti, perché chiunque qui ha a cuore la Sant'Agata. È una storia lunga 30 anni e non va infangata con generalizzazioni. Attualmente la Sant'Agata conta una quarantina di volontari. Nel 2018 erano un centinaio e in quell'anno si contarono mille persone salvate e 300.000 chilometri fatti. Durante il periodo più duro del Covid, tra marzo e aprile 2020, la pubblica Sant'Agata, nata nel 1994, aveva portato 445 pazienti al pronto soccorso e sostenuto 634 servizi. Tornando alla notizia di ieri, qualcuno però non è rimasto sorpreso, spiegando che negli ultimi tempi volontari attuali e precedenti erano stati contattati dalla Guardia di Finanza, un segnale che qualcosa non tornava. Chi non vuol credere a quanto accaduto è la madre della Presidente, spiegando a Libertà che la figlia ha dedicato la sua vita e ore e ore di lavoro alla pubblica e al paese di Rivergaro.